A un mese esatto dal test match Italia Fiji, prima storica esibizione della Nazionale Azzurra di Rugby a Cremona, questa mattina nel Salone dei Quadri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'evento. Un evento sul campo e fuori, con iniziative parallele che prenderanno il via già questo sabato, con l'esibizione dell'Accademia del Rugby nel centro della città. A fare gli onori di casa, assieme al sindaco Oreste Perri, c'era il consigliere comunale con delega allo sport, Marcello Ventura. C'è una voglia di questa partita incredibile, so che i biglietti stranando ruba, tantissime telefonate, la gente crede e vuole partecipare numerose all'evento, anche perché poi ci saranno eventi collaterali, come a partire da questo sabato 19, con un'Accademia di giocatori di rugby che diverteranno i cittadini in corso campi e in corso garibaldi, dove faremo poi dei flash mob per cominciare a lanciare la partita. Anche i negozi, le associazioni dei commercianti si stanno interessando per adobare le vetrine, allestirle, insomma per rendere partecipe tutta la città. Alfredo Gavazzi, presidente della Federazione Italiana Rugby, ha annunciato che allo Zini il prossimo 16 novembre ci sarà anche il presidente del CONI, Giovanni Malagò, e ha spiegato perché è stata scelta Cremona per la sfida contro le Figi. Cremona soprattutto in primo luogo perché è la città dello sport 2013, Cremona perché Oreste, il vostro sindaco Oreste Perry è una persona in cui lo sport c'è là dentro ed è molto importante. Già dalla prima volta ho trovato un grande feeling con Oreste e di conseguenza sono molto contento di poter avere questo test match a Cremona. Giovan Battista Venditti, al azzurra soprannominato il Gran Sasso, ha inquadrato così la sfida contro una delle nazionali più quotate al mondo che si disputerà nella città del Torrazzo. Sicuramente sarà una partita molto difficile perché i figiani come tutti gli isolani hanno dei fisici veramente fuori dal comune per cui sarà una partita molto combattuta e dal punto di vista fisico-atletico sarà molto dura per noi. Comunque noi ce la metteremo tutta, sicuramente da parte degli abitanti di Cremona ci aspettiamo il loro appoggio ma sono sicuro insomma che questo avverrà. Per tutti noi è la prima volta come abbiamo detto in questa città per cui siamo molto curiosi anche noi e Cremona è una bellissima città, spero che dal punto di vista reggistico vabbè anche la sua prima vittoria.